Siamo quelli che ti strappano un sorriso, ti rubano una lacrima, ti fanno vivere un sogno. Siamo i cattivi pensieri, quelli senza vergogna, con coraggio da vendere. Siamo quelli strani, bizzardi, straordinari, unici, speciali. Siamo la tua follia, la tua voglia di vincere. Noi siamo quelli, quelli che hanno il talento. In prima visione assoluta, Italia's Got Talent. La nuova edizione è solo su Sky.